Prosegue il corso introduttivo ad Adobe After Effects, 4 video, compreso questo, in cui analizzeremo i tasti di scelta rapida da utilizzare quando lavoriamo ad un progetto After Effects. Imparare a utilizzare la tastiera è l'unico modo per lavorare bene con After Effects. Se con Premiere la tastiera può essere un optional, anche se io sono per l'utilizzo della tastiera sempre e comunque, in After Effects utilizzare la tastiera è un must, senza tastiera non c'è lavoro in After Effects, ricordatelo. Quindi in questi 4 video tutorial vedremo come fare e impareremo i principali tasti, perché ce ne sono tanti, tanti, tanti da utilizzare. www.fabbiambrosi.it, lì c'è il corso introduttivo ad After Effects con tutti gli articoli e mano a mano che li facciamo e che li portiamo avanti. Su questo canale YouTube c'è la playlist, quindi se avete perso le prime lezioni recuperatele e per tutte le novità mettete un like e condividete la pagina Fabio Ambrosi. Lì tutte le news e i tutorial a mano a mano che ci saranno. Perfetto, prima lezione, tasti di scelta rapida in After Effects. Come aprire intanto il pannello, la finestra, la funzione che ci permette di vederli e di personalizzare i tasti di scelta rapida a nostro piacimento. Menu modifica, scendiamo, tasti di scelta rapida ed ecco qui. Questa finestra ci permette di visualizzare un'anteprima dei tasti assegnati alle varie funzioni di After Effects. Potete cercare, se non dimenticate come si fa una cosa, la funzione, per esempio zoom, scendiamo e troviamo alla voce pannello timeline i tasti più e meno per zoomare, ingrandire o rimpicciolire la nostra timeline. Quindi se non ricordate una combinazione, fate sempre riferimento a questa finestra. Anche perché se utilizzate la tastiera inglese, probabilmente avete i tasti diversi. Ma noi siamo in Italia, quindi io farò questa lezione e queste lezioni sulla tastiera italiana di After Effects. Se cercate online, vengono dati spesso e volentieri le shortcut sulla tastiera inglese e non vi ritroverete mai. Quindi nel dubbio, ecco, fate affidamento anche all'articolo di questa lezione in cui riporterò tutti i tasti di scelta rapida che affronteremo. Se proprio non vi ricordate e avete fretta, utilizzate questa finestra e soprattutto è ancora importante ricordare la versione di After Effects. Qui sto lavorando con After Effects 2020. Io vi invito a utilizzare l'ultima release di After Effects in maniera tale da essere allineati. Ad ogni modo, ripeto, per dubbi c'è questa finestra che potete utilizzare per cercare la combinazione che fa al caso vostro. Se volete fare il procedimento inverso, quindi non so, volete vedere il tasto più a cosa è associato, basta premere il tasto più e qui, mantenendolo premuto, vedete le varie combinazioni associate al tasto più. Quindi, in questo caso, semplicemente il tasto più è associato allo zoom in, cioè control che non ha associato nessuna funzione, control è tasto più ovviamente, alt è tasto più che non ha associato nessuna funzione, maiuscolo più tasto più ha quest'altra funzione qui. Quindi, in questo caso, un metodo fusione livello successivo, ma lo vedremo probabilmente più avanti nel corso. Questo è solo per vedere come fare per richiamare alla memoria i tasti quando, per caso non li ricordate, ma avete fretta di utilizzare una funzione. Nei prossimi tre video tutorial vedremo i tasti di scelta rapida da utilizzare nelle composizioni in After Effects, i tasti di scelta rapida da utilizzare per muoversi nel tempo all'interno della timeline di After Effects, e infine vedremo i tasti di scelta rapida per lavorare fisicamente con i livelli. Quindi vi aspetto al prossimo video tutorial, condividete questo video con i vostri amici, mettete un like se vi è piaciuto e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube www.fabioambrosi.it C'è l'articolo di questa lezione con tutti i tasti di cui parleremo. Se vi fa piacere cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi. Mettete un like e teniamoci in contatto. Al prossimo video tutorial, ciao!